Inizia la dodicesima edizione di Libriamoci, una manifestazione che ormai è diventata un appuntamento imprescindibile per la città. Un appuntamento importante che ci fa riflettere, perché ormai nell'era social si riflette sempre di meno, si legge sempre di meno e tante volte invece i problemi che abbiamo di fronte sono fondamentali, c'è bisogno di leggere, di studiare, di riflettere e Libriamoci ha proprio questo scopo, questo di approfondire, di darci emozioni, darci soluzioni, capire i problemi un po' più in profondità e con umanità sempre valorizzata che dobbiamo recuperare assolutamente. Inizia Libriamoci, le date e gli ospiti principali. Libriamoci, quest'anno si svolgerà dal 20 al 23 ottobre in Mediateca con un'anteprima il 14 ottobre. Avremo nomi molto importanti e avremo delle quattro giornate organizzate in incontri per le scuole al mattino, presentazione di libri nel pomeriggio e proiezioni di film legati ai libri la sera. Durante la giornata ci saranno anche laboratori per i bambini e attività quindi che si svolgeranno in contemporanea. Per accedere alla Mediateca è dove troviamo il programma completo? L'accesso alla Mediateca, alla sala cinema della Mediateca è libero, è possibile prenotare il proprio posto attraverso il sito www.libriamoci.sp.it però è possibile anche accedere liberamente fino all'esaurimento dei posti. Sul sito internet è possibile trovare il programma completo con tutti gli orari e i nomi delle persone che presenteranno i loro libri.